Popolo innamorato di Maria, pronto a vivere un mese, quello di maggio, tra preghiera ed orazioni. La mamma celeste, la vergine di Israele, la donna del Fiat al centro del mese mariano. Un popolo, quello della fede, che sa così guardare al cielo e invocare la protezione della mamma della misericordia. Abbraccia a materno il suo, caro e discepoli, alla sequela del Cristo. Una città, quella di Berletta, vestita a festa per accogliere domani la preziosa icona della Madonna dello sterpeto e vivere giornate di comunione con lei, la tutta bella. Un ingresso il suo, accompagnato dall'esultanza di quei cuori che sanno riconoscere lei l'amore puro, l'amore generoso che non giudica ma guida, che non abbandona ma accompagna. Dopo la solenne processione nella giornata di domani, la Santa Messa è trasmessa in serata, in diretta da Teleregione. Aprire così le porte delle proprie case a Cristo e alla mamma sua Maria. Un cammino, quello del mese di maggio, che deve condurre alla luce del figlio suo, vero Dio e vero uomo, il Cristo Gesù. E per tutto il mese di maggio, Teleregione si prepara a tributare lei, la mamma del pane vivo, portando la sua immagine nelle case di quanti impossibilitati a prendere parte alle numerose celebrazioni eucaristiche della Civitas Maria. Ogni giorno, per tutto il mese di maggio, alle 7.15 infatti, verrà trasmessa la Santa Messa direttamente dalla Basilica Santa Maria Maggiore in Barletta e alle 10, diretta sul canale 178. Un appuntamento su Teleregione da non mancare con la mamma della misericordia.